Good morning Milano, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, come state? Giovedì, giovedì, già giove, siamo ormai in discesa verso il weekend, giovedì 10 ottobre, sono le 7, in 9 minuti in questo istante state ascoltando Good morning Milano sulle frequenze, sui byte, sui megabit e su quello che volete di Crystal Radio, sì 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 sì, fino alle 9 siamo qua Fino alle 9 siamo qui a raccontarvi un po' tutto quello che succede in città, c'è una maria di articoli da leggervi, abbiamo anche degli ospiti oggi Quindi poi ne parleremo oggi a giovedì e poi parleremo anche di teatro, quindi mi raccomando alle 8.05, 8.06 con Tamara Malleo parleremo del teatro L'abitudine del teatro, speriamo davvero che diventi un'abitudine per tutti voi, noi ci proviamo ogni giovedì a far sì che questa abitudine entri nella vostra vita E diventi appunto la routine del giovedì, comunque c'è anche un numero di whatsapp 331-78-53555 Potete scriverci, raccontarci magari appunto anche se avete seguito i consigli o meno più o meno di Tamara Se avete qualcos'altro da consigliarci, se avete un'idea di cosa farete nel weekend, se siete ancora convinti di uscire oggi Nonostante la pioggia che viene giù che va veramente veramente tanta e tanta e continuerà tutta la giornata e continuerà forse anche nei prossimi giorni E continua dai giorni scorsi, infatti insomma la città ne risente, ne sta risentendo tanto Ma comunque appunto noi cercheremo di darvi la carica per iniziare la giornata Abbiamo iniziato con gli ACDC, con Angry 12, insomma se quello non vi ha tirato già a letto non so proprio che fare Maniac, 7.14 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano Eh si parte, si inizia, questa mattina sulla linea verde c'erano i rallentamenti, ve lo dico, adesso sembra che sia tutto a posto Però ci sono stati un po' di rallentamenti e anche un po' di problemi alla segnaletica elettronica Diciamo i tabelloni erano un attimo fuori uso, adesso sta ricominciando tutto quanto a funzionare E anche lì chissà, magari è stato qualche chiodo messo male anche lì Anzi, anzi, parliamo di treni perché, leggo da Milano Today Ritardi 3 Nord, il governatore Fontana, ricollo che non è un governatore ma è il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, non è un governatore perché non siamo un governatorato noi E ci tengo perché è una piccola differenza che però è sostanziale Non siamo l'Arkansas, non siamo l'Idaho dove c'è il governatore, no, siamo la regione Lombardia dove c'è il presidente Quindi ritardi 3 Nord, il presidente Fontana si è detto indignato con RFI Le parole del presidente di regione Lombardia hanno scatenato l'opposizione Effettivamente, come dire, che il presidente di regione Lombardia, maggiorazionista Diciamo, regione Lombardia, proprietario maggiorazionista diciamo di 3 Nord Si sente indignato perché i treni non vanno, fa un po' sorridere Anche se ha le sue ragioni, attenzione perché è questo il grosso problema E che qua abbiamo negli anni, allora, noi arriviamo da anni in cui c'era un solo player Che era colui che, Trenitalia, anzi Ferrovie dello Stato, c'era una volta, che faceva tutto lui Tutto lui, Ferrovie dello Stato faceva tutto E abbiamo detto che non andava bene Perché no, vedi, tutto centrato in uno No, no, noi abbiamo cominciato a suddividere in varie sottoscatole Poi abbiamo incominciato a fare anche altre attività Cioè, 3 Nord è sempre stato, no? Ok, però, adesso RFI è quello che gestisce i binari, diciamo, no? Le ferrovie proprio 3 in Italia invece fa i treni 3 Nord si fa le sue linee e tutto Quindi, facendo così, abbiamo dato la possibilità di fare ancora di più il passaggio E il rimpallo tra un ente e l'altro Ultimamente nel trasporto ferroviario di puntuale ci sono soli disservizi sulla rete Lo dicono senza mezzi termini La situazione è inaccettabile E sono profondamente indignato e offeso dalla gestione di RFI Quindi, il presidente Fontana ribalta tutta la colpa su RFI Cioè, il problema è RFI, capito? E' questo il tema Ricordo ancora, ha detto Fontana Il protocollo sottoscritto insieme nel 2019 Prevedeva un investimento di 14 miliardi In 7 anni Ma credo al momento non sia stato impegnato neanche un miliardo E dubito che ci sarà la capacità di spendere 13 nei prossimi due anni Pretendo risposte concrete, ha detto E non sono più disposto ad accettare le solite scuse Serve un puntuale cronoprogramma e il dettaglio degli interventi Che verranno posti in essere Oltre a un maggiore coordinamento con 3 Nord E una comunicazione diversa Perché i cittadini hanno il diritto di conoscere per tempo Gli eventuali disturbi che dovranno affrontare durante la giornata Quindi, insomma Fontana striglia RFI Ma mi sembra così tra le righe che striglia anche i suoi Cioè, perché dice, insomma Maggiore coordinamento con 3 Nord E una comunicazione diversa Attenzione, la comunicazione è tutta in capo a 3 Nord La comunicazione verso il cliente finale, no? Boh, forse Forse, forse Che qualcosa magari si possa muovere Non lo so E' un po' strano Infatti le opposizioni, insomma, dicono Fontana citofoni in via Bellerio E chieda di Salvini, ecco, subito A me questa cosa che, insomma Si butta tutto in battuta Non mi fa impazzire Nel senso che capisco Cosa c'è scritto tra le righe di questa battuta Che, appunto, l'opposizione fa Che Maiorino, capogruppo del PD In consiglio regionale E Bussolati, capo delegazione Della Commissione di bilancio Fanno, però, insomma Anche meno battute E un po' più di serietà In questi tipi di situazioni Che, insomma, sono davvero il disagio Di tantissimi, tantissimi cittadini Ogni giorno E che si finisca sempre tutto Un po' in battuta In terra lucevino Ve lo dico dopo la prossima canzone Perché, veramente, quello che ho visto Vi giuro, pensavo fosse la I E invece non era la I Vi dico solo che c'è di mezzo J-Axe, l'articolo 31 E Elish Line Michael Jackson Black or white Sempre, anche qui lo dico Sempre più Michael per tutti È una missione la nostra Sì, sì, serve Dobbiamo recuperarlo Perché, insomma, l'abbiamo L'abbiamo scordato tutti quanti Nella nostra gioventù Ma dobbiamo sempre ascoltare più Michael Invece, quello che non avremmo mai voluto ascoltare Lo dico proprio apertamente È quello che è successo ieri Sul palco del concerto degli articoli 31 Allora, ve lo faccio sentire Poi vi dico Si sente poco Però, mi scuso Questo è quello che sta girando sui giornali Quindi, se mezzo obbligano loro Perché non posso farlo sentire io C'è una voce di una donna La sentite? Ok, l'avete sentita? È la voce di una donna Sapete chi è? Ellie Schlein Ebbene, sì È salita sul palco Del concerto di articolo 31 E insieme Invitata Cioè, non è che si è imbucata Nel senso L'hanno fatta salire sul palco Sarà più bello Se occupava il palco In un atto di ribellione Invece no È stata invitata sul palco da J-AX E si è messa a camminare E cantare sul palco Avanti in Dren Avanti in Dren Nanzaretra Insieme a J-AX E a un altro che passa Che non è J-Jet Però, non è DJ J-Jet Mi sembra Comunque C'era su anche un'altra guest star Però, comunque Sono lì Muove anche le mani Sapete così Sulle mani Sulle mani Così Ecco Allora Adesso Non che lo voglia difendere sempre Non che io voglia sempre difendere Matteo Renzi Ma Vi ricordate Quando Matteo Renzi è andato con il Giubbotto di pelle ad amici Cosa era venuto fuori? Capite che non è niente in confronto a questo? Capite che non è nulla in confronto a questo? E non mi venite a dire Eh ma Elislein può fare Nel suo privato Uno, non è il suo privato Perché ha un concerto pubblico Con 30.000 persone che lo guardano Quindi non è un concerto privato Due Sei il segretario del Partito Democratico Forse uno Non sei la segretaria, scusate Del Partito Democratico Forse uno dei partiti più complicati Della storia repubblicana italiana Perché non sa neanch'esso Dove collocarsi Cosa dire Cosa fare C'è la guerra a Gaza E si sa come il tuo elettorato È comunque Legato a un certo tipo di C'è il problema anche Contrario Nel senso che molta parte del tuo elettorato È molto legata ad esempio A Israele E quindi c'è anche quel tema Da andare a sviscerare C'è la guerra in Ucraina C'è la Meloni che dice Che taglia le tasse E voi dite che non è vero Però dopo fa il video Per dire che la tagliate Ci sono delle situazioni Abbastanza complicate nel paese E tu cosa pensi di fare Eh Lelli A me stai anche simpatico Io quando eri al Parlamento Europeo Ti seguivo tantissimo Mi piacevi quello che facevi Va bene Cosa pensi di fare Di andare a cantare Sul palco Degli articoli 31 Allora ditemi Questa cosa Che benefici porta Non dico alla politica italiana Non dico al sistema paese Non arrivo neanche a pensare a quello Ma anche semplicemente Io invece molto più cinicamente dico Che benefici può portare Alla comunicazione E al elettorato Del partito democratico Niente Anzi Il mio dubbio È che A me sembra un po' Non è che c'è l'ovazione Quando sale sul palco Anzi c'è un po' di gelo Mi pare Ecco Forse Certe azioni Magari sarebbero da pensare Un po' prima E pensare Ma servono davvero Fare i giovani Quando non serve Tra i giovani Poi c'erano 50 anni per gamba Tutti quanti Perché insomma Non è che J-Ax È proprio giovane Comunque Trovate il video Andatevelo a vedere È un momento cringe Abbastanza 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 Cringe Sì Tanto Tanto E queste erano Lady Gaga Bruno Mars Die I will smile 735 minuti Ben ritrovati Bentornati qui A Good Morning Milano Sempre in diretta Su Crystal Radio 96.2 FM E poi c'è il Dub Plus In tutta Lombardia E soprattutto Poi in tutto il mondo All around the world Se volete Avete la app Per iOS e Android Il nostro sito internet E anche il sito Di Good Morning Milano Dove potete riascoltare Tutti gli interventi Dei nostri ospiti Come quello Che andiamo ad ascoltare Adesso In questo istante Con il professor Alberto Testori Buongiorno professore Buongiorno a lei Buongiorno ai radio spettatori Allora Direttore della chirurgia Senologica All'Humanitas Pio X E direttore associato Della breast unit Di Humanitas Rozzano Perché Stiamo parlando con lei Dottore Perché ottobre È il mese della prevenzione Giusto Per la prevenzione Di Di che cosa E Mi dia anche un po' L'idea Di che cosa Stiamo parlando Cioè della quantità Dei numeri Dell'entità Della questione Sì Ottobre Come ormai Tante donne sanno Dovrebbero sapere È il mese Dedicato alla prevenzione Senologica Su scala nazionale E quindi Tante Le tante organizzazioni Come ad esempio La Lilt Quindi la Lega Italiana per la lotta Contro i tumori È impegnata A divulgare E a sensibilizzare La gente Sull'importanza Della prevenzione Mettendo anche A disposizione Le proprie strutture E i propri Professionisti Per dare la possibilità Alle tante donne Che lo volessero Di eseguire E delle visite Senologiche Completamente gratuite Associate anche A ecografie mammarie E alla mammografia Con tomosintesi Lo specifico Perché la mammografia Con tomosintesi È diciamo L'esame Di ultima Di ultima generazione Infatti Perché se la prevenzione È sempre stata importante E sempre lo sarà Adesso è davvero Fondamentale Anche perché ormai Si riesce a prevenire Davvero Davvero In tempi Diciamo Non sospetti Quasi Giusto? Assolutamente Noi Nonostante Registriamo Un continuo aumento Dei numeri Perché il tumore Della mammella Come incidenza Rimane ancora Il tumore È più alto Nel sesso femminile In Italia E anche Nel resto del mondo Sappiamo Che comunque Nonostante L'aumento Dei numeri Aumentiamo Anche Le guarigioni E questo perché Sicuramente Grazie all'utilizzo Di nuovi farmaci Che sono entrati Nella pratica clinica Ma soprattutto Grazie alla prevenzione La prevenzione Nel tumore Della mammella Si basa Su una diagnosi Precoce Ovvero Riscontrare La malattia Quando non ha Ancora dato Manifestazione di sé Quando ancora In una fase embrionale Quindi quando Non si palpa neanche E l'unico modo Per scoprirla A questo livello Ovviamente Sono gli esami strumentali Quindi mammografia Ed ecografia mammaria Noi sappiamo Che riscontrando Una neoplasia Con un diametro Inferiore al centimetro Arriviamo a Livelli di guarigioni Che superano Il 98% Wow Sembra quasi fantascienza Invece è tutta realtà Questa Grazie anche Alla ricerca Grazie al lavoro Che è stato facendo Da anni Comunque Assolutamente E inoltre Riscontrando una neoplasia In una fase iniziale È evidente Che anche L'intervento chirurgico Sarà un intervento Molto più conservativo Che si può Eseguire Addirittura In regime Di Dei surgery Quindi la donna Viene operata La mattina E nel terzo pomeriggio È già presso Il proprio domicilio Ne parliamo Ne parliamo anche Perché appunto Questo è il mese Deputato A fare Comunicazione Sulla prevenzione Che comunque Potete fare tutti i mesi Quindi mi raccomando Non soffermatevi solo In questo mese Ma Ne parliamo con lei Anche perché Questa sera C'è un interessante Evento A cui parteciperà lei E un altro Pezzo grosso Invece della televisione Italiana Un altro pezzo grosso Apposta Spero non si offenda Sì Questa sera A Ruzzano Nel centro congressi Abbiamo questa serata Dedicata A Sorriso in rosa Dove Jerry Scotti Presenterà l'evento E da Ormai qualche anno Rappresenta Il padrino Di questa Diciamo Manifestazione Sorriso in rosa Compie 8 anni E raccoglie Ormai 130 donne Che sono curate Nelle nostre Breast unit Negli ospedali Di Humanitas Lombardia Piemonte Sicilia E il progetto È partito Dall'idea Di due pazienti Luisa Cristina Che anni fa Volevano Fare Un qualche cosa Per cercare Di aiutare Le donne A superare Il Il tumore Della mammella Sia da un punto di vista Psicologico Che Da un punto Di vista Delle cure Nel senso che Questi due pazienti Hanno sviluppato La neoplasia E sono perfettamente Guarite E quindi Volevano Trasmettere Questa loro Positività Nei confronti Della malattia E per cui Nasce Come dicevo 8 anni fa Questo progetto Che è nato Come una mostra Fotografica Quindi con Le immagini E le storie Di queste donne Che hanno affrontato Il tumore al seno E ogni anno Viene aggiornata Con nuovi volti E viene esposta Negli ospedali Per aiutare Come dicevamo Altre donne Ad affrontare Il percorso Di cura Sorrisi di Rosa Fortunatamente È supportato Da Fondazione Humanitas Per la ricerca E da quest'anno Anche da Acqua dell'Elva Che mette a disposizione Un profumo Il cui ricavato Sarà proprio Per sostenere La ricerca La partecipazione E l'ingresso Questa sera È libero Ovviamente Previa prenotazione Sul sito Chiaro Quindi Basta trovare Sul sito Tutte le informazioni Per prenotare Stavo pensando Mentre mi raccontava Queste belle storie Mi sono rimasto colpito Anche da quello Che mi diceva Prima della guarigione Al 98% Dicevo che una volta Si dava molto La parola speranza Ormai non c'è più Neanche la speranza Non è da sperare Qui è una solida È una solida realtà Cioè nel senso Che se le cose Si fanno bene Si fanno in tempo E si fa Una giusta prevenzione Si sistemano poi Sì È per quello Che spingiamo Tantissimo Sull'importanza Della prevenzione Perché è L'unico modo Nel tumore Della mammella Ma anche in altri In altre tante Neoplasie Che riscontrarlo Comunque in una fase Iniziale Ti porta Effettivamente A delle percentuali Di guarigione Altissime E tutte queste Come dicevo prima Associazioni Soprattutto in questo mese Spingono tantissimo Per sensibilizzare La gente E soprattutto In questo Ovviamente Mese Le donne Ad eseguire Prevenzione Anche se Non dimentichiamoci Un caso su cento Colpisce anche E noi maschietti Ecco Interessante Grazie anche questo Ma volevo chiedere Anche appunto La fascia di età Invece In cui ci stiamo Rivolgendo Anche lì c'è sempre Un po' di confusione Magari Dice no Ma sono ancora Giovane La fascia di età Qual è quella Più o meno Su cui bisogna Cominciare a fare Un po' di sana Prevenzione Allora Diciamo che noi Consigliamo Una prima visita Senologica Al complimento Del venticinquesimo Anno d'età Per poi passare Ad un'ecografia Mammaria Da eseguire Ogni 12 mesi Dai 30 Ai 40 anni E dai 40 anni Eseguire anche La mammografia Il motivo Per cui Prima Quindi in un'età Più giovanile Si esegue L'ecografia È perché La ghiandola Mammaria È In quest'età Quindi dai 30 Ai 40 anni È studiata Molto bene Dall'ecografia Mentre dopo i 40 anni La parte ghiandolare Tende a trasformarsi In adipe In grasso E Diciamo La parte adiposa Viene Studiata Molto bene Dalla mammografia Per cui Dai 30 Ai 40 anni Ecografia Dai 40 anni In poi La mammografia Associata anche All'ecografia Perché comunque È ancora un'età In cui Vi è ancora Tanta componente Ghiandolare Per cui Diciamo Che mammografia Ed ecografia Mi dà una lettura Della ghiandola Mammaria Praticamente Ottimale Quasi al 100% Se poi Aggiungiamo Anche la visita Senologica Diciamo che Raggiungiamo Il nostro Obiettivo L'età media Comunque Si è abbassata Perché siamo Intorno ai 50 anni Pensi che Nel 2000 Nel primo Anni 2000 L'età media Era intorno ai 62 E un 30% E un 30% Dei nuovi casi Sono in un'età compresa Tra i 25 E i 45 anni Per questo che È molto importante Partire a fare Prevenzione In giovane età Quindi Già ai 30 anni Chiarissimo Le faccio una domanda Dottore Può dirmi Sei stupida Io lo dico Lei ha la facoltà Di dirmelo Allora Diciamo che Se voglio preservarmi Dalla possibilità Di avere un tumore Polmoni Cerco di non fumare C'è qualcosa Che posso fare Per magari Cercare di stare Il più lontano Possibile Da questa forma Tumorale Sei stupida Me lo dica Allora No Ha toccato Un tema Molto importante Nel senso Che ad esempio Nel tumore Del polmone Si parla di Prevenzione primaria Quindi come Accennava lei Prima Il tumore Del polmone È dovuto Al fumo Di sigaretta Quanto meno Come una Causa maggiore Buona parte Diciamo Esatto E quindi Diminuisco il rischio Sicuramente Di sviluppare Un tumore Del polmone Nella Mammella Non si parla Tanto di Prevenzione primaria Ma si parla Proprio di Prevenzione secondaria Ovvero Di agnosi precoce È ovvio Che Lo stile Di vita Quindi L'attività Fisica Una Buona alimentazione Prevenzione Evitare L'abuso Di grassi Di alcolici Evitare Il fumo Porta anche Questo A diminuire Diciamo così Il rischio Come in tante altre Patologie Però La prevenzione Nel tumore Della Mammella È una prevenzione Secondaria Chiarissimo Ma dopo di che Ho capito Che insomma Meno veleni Mettiamo al nostro corpo Meglio facciamo Al nostro corpo Questo è abbastanza Effettivamente Comprensibile Dottore La ringrazio Ci ricordi Prima di salutarci L'evento di questa sera Così che Ce lo possiamo segnare bene E cercarcelo Su internet Sì L'evento di questa sera Si terrà A Rozzano Al centro congressi Rozzano Sì In via Manzona Il 56 In Humanitas E sarà Alle ore 18 Con la partecipazione Di Gerry Scotti Anche con il Direttore Di Di gente Grazie mille Allora Dottor Alberto Testori Grazie mille davvero Buon lavoro E buona serata Anche stasera Un momento anche di festa Grazie Grazie a lei E buon lavoro Nonostante il tempo Anche a voi Grazie mille Per fortuna Stiamo all'asciutto Grazie mille A presto Dottore Grazie E allora Andiamo avanti Ancora un po' di musica Ma soprattutto Arrivano notizie Dalla stazione M3 Di Corvetto Che viene data Quasi Completamente allagata Al momento Solo un ingresso È aperto Sul sito ATM Ci sono le varie indicazioni Quindi siamo veramente In una situazione Veramente complicata Quest'oggi su Milano Grazie anche ad Alberto Che ci manda il suo Whatsapp Con un saluto A tutti gli amici Di Good Morning Milano Al direttore Alla redazione E finisce Chiude Questo Questo messaggio Con scritto Altra giornata Impossibile È oggi davvero Una mission impossible Dobbiamo solamente Affidarci Alle stelle Sono solo le stelle Sono solo le stelle E' una lingua Che non è una lingua Che non è Non è la lingua Degli annunci Cioè ci sono Ogni luogo Ha il suo Blessico Diciamo Protocollo Quasi mi avrebbe da dire Se scrivi una lettera Dell'avvocato Non scrivi Oh avvocato 92 Fino Aperta Sforza Andarla a scoprire bene Perché è molto tecnologica Linea M4 Trova un'estensione Di circa 15 km 21 fermate Più abbiamo detto 40 treni Saranno impiegati Sono treni bidirezionali Possono andare Avanti e indietro Tranquillamente Non c'è Possono andare Avanti e indietro Avanti e indietro No loro possono Loro possono andare Avanti e indietro Senza problemi Sono driveless Driveless Cioè non c'è Non c'è il conducente Ma c'è la AI Che li manda in giro C'è comunque C'è Allora Driveless Sì e no C'è uno su In sala controllo Che comunque Sta a guardare Dovanno Non ce ne fa andare Così a caso E in tutto I treni in punto Si muoveranno A una velocità massima Di 80 km all'ora E nelle ore di punta Avranno una frequenza Di 90 secondi Quindi scende anche Di più rispetto Alla frequenza Ad esempio Della M5 Per celebrare Questo tutto Questo sabato Ci sarà una grande festa Appunto Nelle varie fermate Della M4 E questo è Ripping Pink Floyd Con Money Alle 8 e 12 minuti Questo era Il Cristal History Delle 8 E andiamo avanti Invece con la nostra Smissione Oggi è giovedì E il giovedì Si parla di teatro E quindi Buongiorno Tamara Malleo Buongiorno Fabio Buongiorno alle ascoltatrici E gli ascoltatori Di Cristal Radio Di Budumorri Milano E salutiamo anche Beatrice La tua collaboratrice Questa mattina Sempre in realtà Non questa mattina E lì in regia Adesso è arrivata Anche Ginevra Quindi sono lì Tutti due in regia Che stanno Iniziando Sì 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 Allora Gli appuntamenti Del teatro Dimmi tutto Andiamo subito Allora Arrivano 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 Che in questi In quest'ultimo anno Si è rodata E arriva a teatro Sbarcando con Alice Loris Al teatro Il pupuccini Quindi ci troviamo In zona Corso Buenos Aires Metropolitana Rossa Porta Venezia O Lima E Alice Loris Sono Alice Francesca Riedini E Loris Fabiani Loris Fabiani Che Appunto È andato È tornato Alla ribalta Diciamo così Per moltissimi Perché ha partecipato A LOL Ma in realtà Loris Fabiani Lavora da tantissimo tempo Affinché la teatralità Possa prodare Ovunque E dovunque Insieme ad Alice Riedini Che è un'attrice Meravigliosa Peraltro anche autrice Regista di spettacoli Molto belli Diciamo Su una linea Surreale Onirica Molto divertente Peraltro Perché c'è Un'ironia Che Alice Porta sempre Nei suoi lavori Insieme Si incontrano E insieme Diciamo così Dialogheranno O litigheranno Questo lo scopriremo Solo a teatro Per tutta la prossima Settimana Da martedì 15 A domenica 20 Quindi li potrete Trovare E in qualche modo Sarete anche Saremo Perché ci andrò Anch'io Coinvolti In questo spettacolo Dove appunto Loro dialogheranno Su quello che Accade loro Sia artisticamente Che Diciamo così Umanamente E noi saremo Testimoni Di questo incontro Di questo scontro Secondo me Loro hanno Un modo di stare insieme Molto energico Molto divertente Però al tempo stesso Anche molto riflessivo Quindi Un appuntamento Da non perdere Alice Loris L'appuntamento Al teatro Elfo Puccini In Corso Buenos Aires Corso Buenos Aires Puccini Allora Poi ci spostiamo Invece Al teatro Gerolamo Gerolamo Si Si trova Praticamente In centro E Quindi Arrivato in centro E Si Si arriva Appunto Facilmente Con la fermata Duomo E Sabato 12 E domenica 13 Sarà in scena Lucia Vasini Con Uno spettacolo Diciamo Della Tradizione E cioè Mistero Buffo Di Franca Rame Dario Fo E lei Da questo Da questa opera Lei ha lavorato Per tantissimi anni Nella compagnia Di Dario Fo E Franca Rame Da questo Mistero Buffo Ha tratto Tre Diciamo così Tre collage Tre giullarate E In questo In questo spettacolo Oltre a queste Tre giullarate Ha aggiunto anche Dei prologhi Originali Con alcuni estratti Delle interviste Di Dario Fo E Franca Rame E Anche Alcuni estratti Del rapporto Di Dario Fo Con Dio E il Vangelo Quindi c'è Un viaggio Attraverso Mistero Buffo Reinterpretato Da Lucia Da Lucia Vasini Che come sappiamo La tre c'è Molto brillante Ma al tempo stesso Anche lei Cerca poi Dei percorsi Riflessivi Nelle parole E nelle opere Del teatro E in questo caso E in questo caso Appunto è un modo Per ripercorrere Questo Diciamo così Questo pilastro Del teatro Della nostra tradizione Attraverso poi La rilettura Appunto originale Di Lucia Vasini Quindi si Ci troviamo Al teatro Gerolamo Il sabato 12 E domenica 13 Questo weekend I giorni La fermata Duomo Ok Si può arrivare facilmente Ecco l'unica cosa In macchina Un po' difficile No C'è lì Andate con la metropolitana Esatto Con la metropolitana È facilissimo Invece poi Ci spostiamo Al teatro Della cooperativa Che appunto Parliamo spesso Renato Sarti Continua Anche in questa stagione Il suo viaggio Nel sociale Nella memoria E nel recupero Soprattutto Della Delle storie Che spesso Venivano dimenticate O abbandonate In questo caso Proprio Renato Sarti Insieme a Domenico Pugliares Con un testo Di Renato Sarti E Franco Pero Porta in scena Domani Quindi da venerdì 11 A domenica 13 Evitato di giunare In spiaggia Ed è un ritratto Di Danilo Dolci Danilo Dolci Neanch'io lo conoscevo Quindi ammetto La mia ignoranza È stato un sociologo Pedagogo Poeta Scrittore Che aveva scelto Nell'immediato Dopoguerra Di portare avanti Le sue battaglie Di attivista Recandosi Nella Sicilia Flagellata Dalla fame Dalla mancanza Di acqua Tutta una serie Di problematiche Legate al territorio E soprattutto Per combattere La disoccupazione E le ingiustizie Diciamo così Un terreno Molto fertile Per le organizzazioni Criminali E la mafia E lui appunto Cercava di creare Delle condizioni Per poter avere Gli strumenti Per potersi In qualche modo Ribellare O in qualche modo Essere consapevoli Di quello che stava accadendo Appunto Renato Sarti Come spesso fa Vuole riportare Alla luce Storie Che in realtà Molti di noi Non conoscono E in questo caso Danilo Dolci È al centro Di questo racconto Rievocando La sua vita Quello che ha fatto Anche se Il passato Da cui arriva Non è poi così lontano A noi sembra Molto lontano Ma in realtà È molto vicino E può essere collegato Anche a molte storie Legate al nostro presente Quindi Triato della cooperativa Ci troviamo a Niguarda Niguarda Sì Altra zona di Milano Si può raggiungere In questo caso Con la metropolitana Ma Anche con C'è il tram Sì c'è il tram Bravissimo Quattro credo Sì il quattro Però vabbè In questo caso Si può raggiungere Anche in macchina Si può trovare I parcheggi Facilmente Da venerdì Undici A Domenica Domenica Tredici Vietato È vietato Di giornare In spiaggia Insomma Tutti e tre Molto interessanti E molto vari Diversi Quindi grazie Tamara Come sempre Per infatti Per darci Un bel quadro Generale Ricordiamo anche Dove possiamo Invece seguire Tamara Malleo Oltre che Non so All'esse lunga Di via Non so Non so dove vado A fare la spesa Allora Possiamo Allora L'appuntamento Con Teatro Mania È il venerdì Alle 15.30 Su Milano Canale 191 E il lunedì Alle 23.30 Su Antenna 3 Quindi c'è Una diversificazione Canale 11 Canale 11 Va bene Tamara Grazie mille Buona giornata Buon lavoro Ci si vede a teatro Allora dai Vedi a teatro Grazie mille Ciao Grazie mille Tamara Malleo Footloose 8.23 minuti Crystal Radio Good Morning Milano Continuiamo Con la nostra Mattinata Sono venuti Qui A trovarci in studio Due scrittori Stiamo parlando di Marco Aluzzi E Fabio Marani Buongiorno 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 a tutti Scrittori che ci faranno Anche Non so Ci faranno anche ballare Perché insomma Il vostro titolo C'ha dentro una parola Swing No giusto Com'è che Sì è Sombrero Swing Sombrero Swing Quindi ci fate anche Cantare Ballare Danzare Sicuramente sì Almeno Perlomeno ridere E giocare Eh infatti Perché allora Stiamo parlando di un libro giallo Giusto O noir No perché io ne parlavamo Con un'altra Con una libreria Ci spiegava la differenza Il vostro è giallo o noir È un noir È un noir Ok perfetto Noir Quindi non è detto che finisca bene Ma hanno detto che è questa La differenza sostanziale è quella Ma hanno detto da giallo e noir Il giallo Sostanzialmente finisce bene Nel senso che si capisce tutto Chi è stato Chi è stato Chi è stato Il noir non è detto Non è vero E poi c'è Non c'è l'indagine Nel noir Non c'è per forza un'indagine Non c'è per forza un'indagine Libro che appunto Quando è uscito Sombrero Swing Ormai Un anno Un annetto Ormai Un annetto Si E adesso esce Parte 2 La parte 2 Perché abbiamo lasciato tutto in sospeso E adesso tutti quelli che ci dicono Eh ma non è detto che Che non era giusto Che insomma la cosa Devo aspettare un anno Devo aspettare un anno Per capire come vanno a finire Questi due matti E invece adesso sta arrivando L'anno è passato Eh ma poi mi sembra Per le serie su Netflix va bene Per il libro dei due No scusa Allora anche qui Aspettate E ne capirete meglio Ne capiamo meglio anche noi Subito dopo la piccola pausa pubblicitaria Come si dice in questi casi E ne parliamo appunto Con i nostri autori qui Insieme Perché insomma Sono tante le cose da raccontare Dov'è che è ambientato Giusto così A Milano In un quartiere popolare Ah che strano No no dimmi 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 Dicevi a Milano dove In un quartiere popolare Esistente o inventato Esistente La Cagnola Ci hanno detto di sottolineare La Cagnola La Cagnola Quindi zona via le Certosa Giù di là Esatto Ancora gli ultimi giorni Ci hanno detto Mi raccomando La Cagnola Perché il Cagnola Non si può sentire Così ci hanno detto No 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 La Cagnola Tra Certosa e MacMahon Giusto là in fondo Esatto Ok Piazza Castelli Quella zona lì Ok Sì sì Perfetto 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 Quindi va bene È ambientato lì Quindi se siete di Milano Lo capirete ancora di più Se non siete di Milano Magari vi appassionate La città di Milano Invece Quindi insomma E anche questo Che cercheremo di capire meglio Fra poco con Marco Aluzzi E Fabio Marani Non mi ha dato il titolo È sempre quello Ho cambiato È sempre Sombrero Swing Il primo era Sombrero Swing La volta buona Questo è Sombrero Swing Quelli che Quelli che E poi spieghiamo A che fare con Quelli Allora adesso Allora sì Che dobbiamo spiegarlo Dai Andiamo con un po' di musica E poi torniamo qui Insieme agli autori We pray E call play Insieme a chiunque Passasse di lì Sembrerebbe Perché c'è Little Smith Sims Burna Boy Eliana E Tini Cioè non so C'è avete uno zio Che sa fare qualcosa Mandateli Tanto una prossima canzone La farò anche con lui Vabbè Comunque invece Non sono due a caso Due che passavano di lì I nostri ospiti di oggi Sono due scrittori Due autori Gli autori di Sombrero Swing Marco Aluzzi E Fabio Marani Qui a presentarci Sombrero Swing Quelli che Sì La seconda parte Quelli che Quelli che Dopo Aver Subito Tutto quello che hanno subito Nella prima parte Tentano in ogni modo Di riscattarsi Come la canzone di Annacci Quelli che Però c'è un finale Che non si può Eh no Finale non lo diciamo Esatto Il problema qui È che non possiamo Neanche dire l'inizio Perché se non hai letto Il primo Oppure sì Bella domanda Previously On Sombrero Swing Come funziona qua Che di solito Da te la presentazione del libro Dite allora Mi racconto il libro Inizia così Tanto le prime pagine Sono quelle Poi Non vi dico come va a finire E qui non possiamo dire Inizia così Perché se non l'hai letto No no Si può dire Si può dire La storia si può raccontare Perché in effetti A grandi lini magari Si è incentrata Fabio ha paura Marco ha paura Ti guarda Non dire quella cosa Fabio non dire quella cosa Non dire quella cosa No non quella Quella così È un anno che facciamo Presentazioni Quindi abbiamo raccontato tutto Quindi possiamo Possiamo dire benissimo Quasi tutto No la cosa Da dire Che Appunto è un noir Incentrato su un colpo Che Un colpo che Sarebbe stato Il colpo del secolo Se fosse avvenuto E noi l'abbiamo fatto Avvenire Marco Abbiamo Vi stai inventati Il colpo del secolo Vi stai inventati Sì Siamo Abbiamo preso informazioni Sulla Pinacoteca Ambrosiana Ok E ovviamente Come tanti milanesi Sanno Ma anche Tanti che non sanno Cioè Nel 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 Cavour C'è il codice atlantico Di Leonardo da Vinci Ok E noi abbiamo deciso Di farlo sparire Ecco mi fatevi capire Come avete fatto le ricerche Senza finire Sotto la lente della Digos Cioè Avrei capire questa cosa qua No in realtà Lui è stato Sì Allora In Pinacoteca Ho fatto due o tre domande Particolari Se c'è una luce Quasi Quasi Nel senso che Chiedevo dove fosse Se il cavo è sotto Sopra Insomma In qualche punto Della Pinacoteca E alla terza Ho cominciato a vedere Una guardia Che praticamente Mi seguiva Da lontano Con discrezione Però mi seguiva No a parte quello Poi abbiamo Comprato Un DVD Dove All'interno di questo DVD C'erano Le spiegazioni C'erano le immagini Del cavo Però Non molto Di più Ovviamente Anche perché Un cavo Credo che ci sia Un minimo di sicurezza La cosa interessantissima Che questo cavo All'interno Ha L'aria condizionata Che deve rimanere A 20 gradi Sempre E All'apertura Ogni due ore Quindi c'è uno Non possono Vado giù a vedere Come sta il codice No Aspetta le due ore Che È interessante Sì Poi dopo Chiaramente Come tutte le fiction Ci abbiamo messo qualcosa Di nuovo Certo C'è gente che ci ha messo Acqua In questi anni Abbiamo aspettato Qualunque cosa Palombari Che rubavano L'ingotti d'oro Insomma Abbiamo visto di tutto Abbiamo visto di tutto Quindi ci mancherebbe Quindi vi siete invitati Da questo ipotetico colpo Appunto del secolo Che sappiamo In inizio appunto Si capisce Ben riuscito Quindi a questo punto Capiamo Da lì parte tutta la storia Ah ecco Ho dato per scontato Eh invece Non è proprio ben riuscito Ah ok Non diciamo Come si dice Bene ma non benissimo Esatto In questo caso Come si dice L'intervento È stato effettuato Alla perfezione Ma il paziente è morto Ecco Ottimo Ottimo Direi Da lì parte tutta la storia Storia che appunto Si dipana All'interno della nostra città La città cos'è Protagonista Scenografia Soggetto Oggetto Cos'è Assolutamente È protagonista E Scenografia Ok Perché Parte tutto dal quartiere Cagnola Dalla Cagnola Ci sono Cioè Ma si Si dipana Lungo Praticamente Quasi tutta La città Insomma Esatto Come mai proprio la Cagnola Ma com'è che vi è venuta questa idea della Cagnola Ci avete vissuto C'era la vostra fidanzata Quella che No la Cagnola È stata una scelta Che è avvenuta Quella domenica famosa Dove noi abbiamo fatto un giro Per questo Ce l'avevamo Messo Tra quelli potenziali Perché voi Voi avevate già la storia Ma dove l'ambientiamo Esatto L'ambientazione È importante Allora Ci siamo accorti Che c'era un quartiere interessante Che era Il quartiere La Cagnola E una domenica Siamo andati a visitare Le vie Ok E arrivati in via Bodoni Troviamo Un locale Un bar L'Arci Vi posso dire una cosa Che voi non sapevate Sono stato barista In quell'Arci No non sto scherzando Non sto scherzando Avevo 18 anni Facevo il barista In quell'Arci Ma sai che Quando parliamo della Cagnola Nessuno sa dov'è Ma c'è sempre uno Che dice Ma io ho già abitato Io ho una fidanzata Esatto Io ho una fidanzata La fidanzata stava Nella via Michelino a Besozzo Che è quella Ah certo Quella che chiude Tra l'altro poi Abbiamo scelto La Cagnola Perché cercavamo Un quartiere Che non fosse Di quelli famosi Cioè potevamo scegliere Ortica Giambellino Adesso facciamo torto Agli altri quartieri Quali erano gli altri quartieri Sulla lista Che invece non sono finiti Blasonati E raccontati Quello Di Biondillo Dove ha Ambiente Via Padova Esatto Perché è già usato Già strausato Poi è talmente Diventato famoso Che Questo scrittore Biondillo Si può dire Lui ha creato Un commissario Un commissariato Che non esiste E dopo un po' di anni L'hanno fatto veramente Come i Simpsons Che predicono il futuro Si dice Esatto Quindi anche lui Riuscì a fare qualcosa Del genere Poi abbiamo Tolto Il giambellino Perché mi ci sembrava Troppo Giambellino Però che mi porta A dire Giambellino Il cerutigino E tutto Alla fine Fate fate che non volete Finire lì Ma alla fine siete finiti Perché quelli che Mi dicevate In realtà Nasce un po' Da una certa dichiarazione Che qualcuno ha fatto Sui vostri Precedenti libri Ah sì Assolutamente Marco Luca Crovi Luca Crovi Ha letto il libro C'è stato Questo momento In cui noi L'abbiamo conosciuto Circa Cinque anni fa Ormai sono passati Quattro Quattro tutti E lui ha detto Va bene Lo leggerò E dopo una settimana Ci ha chiamato Dicendogli Che il libro Il manoscritto Gli era piaciuto parecchio Ok Quando è arrivato Abbiamo seguito Tutto l'iter Per arrivare Alla pubblicazione Lui ha fatto Questa quarta Di copertina Dove Fabio Dillo tu Raccontalo tu Ce l'ha detto lui Ce l'ha detto lui Ragazzi io Questa ora ve la voglio scrivere Perché Mi ha divertito proprio E ha scritto Adesso testualmente Non mi ricordo Parafrasando Come si dice In questi casi Che i personaggi E l'atmosfera Del nostro romanzo Ci ricordano Tantissimo Le canzoni Gli annacci E le poesie di caro porta Beh insomma Poca aspettative No pressure Come si dice In questi casi E tant'è che adesso Invece chi andiamo a scomodare Per il prossimo libro Cioè non lo so A sto punto Il Papa No non lo so Il Papa Si scomoda Sì sì Sento che c'è Un servizio di rete Il Vaticano Immaginato Quindi Assolutamente Andiamo a scomodare Cocchi e Renato Pure Pure loro Sì 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 Assolutamente Tutto questo Ricordiamoci L'ambientazione Dei vostri libri Sono 1973 Vi dicevate prima Più o meno Quella data No precisamente 1973 La settimana L'ultima settimana Di novembre Che coincide Perché questa è Un'altra cosa importante Coincide con La prima Che Chi ha la nostra età Se lo ricorda La prima domenica Di Milano Senz'Auto Di Austerity Ah l'Austerity Bene Andiamo con un po' di musica Allora sono i Proclaimers Al Gona B E senza Austerity Fanno ben 500 miglia The Proclaimers I'm gonna be E I'm gonna be Siamo qui invece A raccontare Di Sombrero Swing Quelli che Il libro di Ormai Prossima uscita Quando esce Dateci un po' Anche appunto Le coordinate Per sia seguire voi Sia per poi Accattarci un libro Allora Il libro esce O l'8 O il 15 novembre Ci hanno parlato In termini tecnici Due opzionali Dicendo O lancio 45 O lancio 46 Che io non capivo Poi dopo sono le settimane Praticamente Ah ok Le chiamano con questo numero Esatto Si impara Si impara tutto E niente Poi inizieremo Le varie presentazioni La casa editrice Edizione Il Viandante Edizione Il Viandante Di Chieti Stessa casa editrice Del primo Del primo Continuiamo La collana Esatto La collana Nero Il Viandante Così come è chiamato Si Stessa casa editrice Stessa tutto Perché noi avevamo Ideato una storia unica Poi per Esigenze editoriali Avevamo sentito Anche altre case editrici Ed era Un'opera prima E dei scrittori Non poco Conosciuti Superare Tolkien Già l'opera prima Non era consigliato Infatti Giustamente Quindi ci hanno Chiamali A Milano si direbbe Chiamali Pirla C'è nel senso No è vero Guarda C'è una Importantissima Casa editrice Svizzera Che è la Todor Che lavora tanto Con Milano C'ha proprio L'abbiamo mandato C'è detto Ma molto bello Dopo un quarto d'ora Mi manda un'america Ho scritto Potrebbe essere anche la Bibbia Ma noi non Troppo Eh beh Ci sta Ci sta Avete trovato invece La vostra quadra Giustamente Grazie al Viandante Quindi insomma Quindi questo mi fa capire Però che Non ci sarà una terza parte Oppure ci sarà No non ci sarà una terza parte Ma molto probabilmente Ci sarà un secondo episodio Ah ok Nel senso Continuano Continueranno I personaggi I personaggi appunto Che ritornano dal primo Adesso nel secondo Che diciamo Prima appunto Essendo un noir Non è però nel classico Cliché del giallo Invece dove c'è appunto Il commissario Che è il protagonista Che si porta dietro In tutti i 68 70 libri Che ognuno può scrivere Nella sua carriera Esatto Ma qui invece Sono altri protagonisti Che quindi sono I due che volevano Fare la rapina Cioè rubare Il codice atlantico Questo giusto Sono principalmente Gino Gino Ed Eugenio Ok Il Gino Ed Eugenio Assolutamente Ed è scritto anche così Con l'articolo davanti Con l'articolo davanti Un'altra cosa Che ci ha fatto troppo ridere Che abbiamo messo I numeri Dei capitoli In mianese Vudentri Bellissimo E' piaciuto a tutti E supportati Da dei comprimari Di russo Per esempio Sombrero Eh perché appunto Adesso arriviamo Lo diciamo alla fine Perché tutto il tempo Lo sarete chiesti Sto titolo Sombrero swing Chi è il messicano Qua Chi è il messicano Che va a ballare Lo swing No Siamo fuori strada Siamo fuori strada Sì sì Sombrero swing E' un'idea Che ci è venuta Proprio All'ultimo momento Prima di proporre La casa editrice E Fondamentalmente Sombrero E' il terzo protagonista Si può dire E' un cavallo Un cavallo Cavallo da corsa Ah Vedi Che Detto così Già Per tutto un mondo Esatto Eh sì Perché continuo a pensare Che vada a ballare lo swing Quindi Adesso vai sulla seconda Perché se no Io continuo a pensare Che questo sombrero Si metta a ballare Questo cavallo che balla E' talmente E comunque è talmente folle Che potrebbe veramente Ballare un swing No La seconda parte È che inizialmente Il titolo di progetto Doveva essere O operazione sombrero O sombrero blues Perché avevamo identificato Che in realtà Questo Questo romanzo Fa ridere Ma Come le canzoni di Annacce E le poesie di Caroport C'è un sottofondo di Malinconia Ok Nostalgia Più che malinconia Poi dopo un giorno Abbiamo sentito La tromba di Raffaele Currier Per suonare E abbiamo detto No Questo è il ritmo Del nostro romanzo Quindi sombrero swing Quindi in realtà È proprio Il ritmo Si si Ci ha suggerito Queller In quella serata Ci ha suggerito Il titolo Dello swing Infatti lo sa adesso Lo sa Glielo avete detto E abbiamo dato Anche una bottiglia di grappa Per ringraziarlo Che l'abbia apprezzato Suonerà ancora meglio E più forte La tromba Tra l'altro Ha suonato Le nostre presentazioni Ecco Questa cosa Abbiamo pochi minuti Mi spiace Perché volevo Un attimino Approfondirla Milano È una città Dove davvero Si fanno Tante presentazioni E fatte anche bene Mi sembra O sbaglio Si 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 Milano è Una città ricca Da questo punto di vista Molte Sono anche Passano Diciamo Sottotono Sordina Usiamo come la tromba Esatto Passano in sordina Ma in realtà Ce ne sono tantissime Per esempio I quartieri Come Per esempio La Cagnola Dove abbiamo ambientato Sono ricchi Di piccole associazioni Che Sui territori Portano avanti E comunque Anche tante Libriere indipendenti Come Il covo Della ladra Come Quella che siamo andati A fare Questa bellissima Anifestazione Mercoledì scorso Che si chiama Mamì La libreria Oktoberfest La Bionda Dove 11 All'Ortica Dove 11 scrittori Hanno il tempo Di un boccale di birra Per presentare Il proprio libro È stato molto divertente Sì E ce ne sono diverse Diverse È molto ricca La città A questo punto di vista Sì sì Io saluto Alessandra Di Collane d'autore Ad esempio Che è un'altra libreria Che c'è qui vicino Proprio a San Siro Quindi insomma Tante tante Sono le piccole realtà Che Però fanno tanto Perché appunto Non è tanto poi Il libro in sé Che uno È brutto dirlo così Ma solo può compare Dove vuole Ma è proprio invece Conoscere Capire E poi affezionarsi A quel luogo Quindi poi Esatto A quel punto Lo vai appositamente A comprare in quel posto Perché sai che lì Il libro è sempre lo stesso Ma lì ha un gusto diverso Eh sì La fidelizzazione Dei clienti Come No no Ma poi queste cose qua Molto spesso Sono Sono anche degli show No? Cioè movie Sono fatte proprio bene Bene Allora Lancio 46 Io 45 46 45 Quindi L'8 15 novembre Uscirà Sombrero Swing Quelli che Abbiamo un minuto Ditemi voi Cosa non abbiamo detto Che dovevamo per forza dire Cosa non abbiamo detto Allora Noi invitiamo Tutti quelli che Allora Quelli che non sanno Nulla di questa Quelli che Il secondo Li avvisiamo In questo momento Che manca Veramente poco Sì E poi noi ci stiamo Preparando a fare Nuove presentazioni Mi raccomando E aggiungere anche Quelli che vogliono Leggere qualcosa di diverso Assolutamente Perché siete veramente Posso dire Un po' strambi e diversi Cioè Quello che ci dicono tutti Come ci hanno detto a Roma Siamo un'altra cosa Ecco Perfetto Così crime Ma un'altra cosa Cosa Scopritelo Andando a leggere appunto I libri Di Sombrero Swing Grazie mille a Marco Aluzzi Grazie a Fabio Marani Grazie mille Ci sentiamo presto Ancora una canzone E poi torniamo qui Con i saluti finali 8 e 55 minuti Siamo arrivati alla fine Di questa puntata Di oggi giovedì 10 ottobre Di Good Morning Milano Dopo di noi Lo sapete benissimo Cosa succede Ve lo ripeto Ve lo ripeto Se siete distratti C'è Ambrogio Curti Con Senti questa La grande musica Nazionale Ed internazionale Raccontata appunto Da bravissima e competentissima Voce di Ambrogio Curti Se invece volete Riascoltare tutto Quello che è stato Detto Stato fatto Se volete Riascoltare un po' Quello che è successo Questa mattina Bene Semplicissimo C'è il nostro sito Goodmorning Goodmorning.milano.it E potete Riascoltare Ad esempio L'intervista A Marco Aluzzi E Fabio Marani Ad esempio Oppure Tamara Valleo Oppure tutto Quello che siete persi Nei giorni scorsi E poi comunque C'è anche il podcast Sia su Spotify Che su Apple Podcast Li trovate sempre lì Con tutto Gli inserti La puntata completa Le interviste Tutto quello che volete Le voci che avete sentito Questa mattina Sono state quelle Del professor Alberto Testori Di Tamara Malleo Di Marco Aluzzi Di Fabio Marani E qui al microfono Con voi Fabio Ranfi Grazie mille Alla regia con Ginevra E alla produzione E redazione di Beatrice Grazie mille Ci sentiamo domani Ciao